Ciao da Avsim! Bentornati su Avsim Shirts, la mia rubrica per raccontarvi la storia delle maglie della Juventus dalla stagione 1994-95 a quella attuale. Il mio shirts wall ha le mie spalle che già vi ho mostrato fino ad un certo punto e quindi recuperate la playlist Avsim Shirts su questo canale e iscrivetevi attivando le notifiche così da non perdervi i prossimi video. In questo video parliamo delle maglie di una stagione controversa, triste per noi della Juventus e cioè quella di Calciopoli, quella della retrocessione non sul campo ma nei tribunali e quindi la stagione 2005-2006 che ci vide alzare al cielo di Bari e io c'ero, la coppa dello scudetto, del 29esimo scudetto che poi ci fu appunto revocato. Vediamo allora tra poco, tra un attimo, tutte le maglie con tutti i dettagli anche da vicino e vi ricordo che tutti i video di questa rubrica sono in 4K, quindi fateci caso e magari potete switchare alla massima risoluzione per godervi davvero tutti i dettagli. E allora vi mostro le maglie della stagione 2005-2006. La prima maglia che devo mostrarvi è naturalmente una maglia bianconera, la maglia principale di quella stagione che era molto simile alla maglia della stagione precedente, sempre sponsor tecnico Nike, ma recava delle strisce un po' più sottili. Lo stemma della Juventus al centro con la particolare dicitura che accompagnò tutte le divise, anche le tute di quella stagione con l'indicazione del centenario del primo scudetto, già che eravamo nell'anno 2005 oltre che 2006 e quindi dal 1905 il primo centenario del primo scudetto. Come vedete ci sono dei particolari molto interessanti, per esempio il tricolore sia nella parte interna che nella parte esterna del colletto. Poi appunto lo stemma Nike molto in alto in quegli anni era un po' più su rispetto alla linea normale del torace e dall'altra parte le due stelle. Naturalmente questa maglia era scudettata, io ne ho una versione senza lo scudetto sopra e lo sponsor tecnico di quell'anno era sempre Tamoil. Vi ho già fatto vedere che non ce l'ho con personalizzazione. Un altro dettaglio interessante, se vogliamo, era questo giallo, questa specie di triangolo giallo nella parte inferiore, come a separare la parte di tessuto anteriore dalla parte di tessuto posteriore. Questa maglia, bianconera, la prima, la home di quella stagione, fu indossata in 44 partite che furono 29 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte, secondo il sito uworld.net. Il gol più bello di quella stagione fu segnato, a mio avviso, proprio con questa maglia e fu, secondo me, ma credo secondo tanti, quello di Del Piero su punizione contro l'Inter nella vittoria 2-1 a San Siro. Il primo gol della linguaccia. Che tempi! Lo vedi ovviamente non dallo stadio ma in diretta tv e me lo ricordo come se fosse adesso. Una maglia, tutto sommato, molto bella, che però fu un po' sfortunata. Prima della seconda maglia di quella stagione vi mostro la terza, che fu una bellissima maglia gialla. Non ci sono state tante così gialle, così belle, ovviamente con il richiamo blu per i colori della città di Torino. Abbinamento cromatico frequente, comunque, il giallo-blu nella storia della Juventus. È praticamente una maglia molto, molto simile alla maglia home. C'è lo stesso dettaglio del tricolore davanti e dietro. Se vogliamo c'è anche la scritta 90, tipica della Nike di quegli anni. Si trovano tutti i loghi nella stessa posizione, anche in questo caso. E ve lo faccio vedere nuovamente da vicino. C'è lo stemma della Juventus in rilievo, leggermente vellutato con la scritta centenario del primo scudetto. Abbiamo i richiami blu, per esempio il triangolo in basso, che non è più giallo, ma è appunto blu nel tessuto giallo. E ci sarebbe stato anche in questo caso lo scudetto, che però nella versione che io ho acquistato, postuma tra l'altro, perché come gran parte delle maglie qui dietro è una collezione che ho costituito successivamente nell'anno 2020, ma appunto nella mia versione non c'è e non ho neanche la personalizzazione. Questa maglia fu indossata tra l'altro in solo le tre partite, ma furono due vittorie, zero pareggi e una sconfitta. Entriamo però un po' più nel dettaglio di quella stagione, che vide la Juventus vincere il campionato, quindi concludere la Serie A al primo posto, e non fare altro dal punto di vista delle altre competizioni, quindi non Coppa Italia e ricordiamo anche in Champions poteva andare molto meglio. Il capocannone di quella stagione fu David Treseghe con 29 reti, l'allenatore naturalmente era Fabio Capello, e la rosa era costituita dai seguenti giocatori, tenendo conto di quelli che fecero almeno una presenza. Buffon, Abbiati e Chimenti, i tre portieri, in difesa Chiellini, Cannavaro, Turan, Zambrotta, Zebinà, Balzaretti, Kovac, Pessotto e Gladstone. Al centrocampo Vieira, Emerson, Nedved, Camoranesi, Gianni Chedda, Olivera e Blasi, e in attacco naturalmente Del Piero, naturalmente Treseghe, e poi Ibraimovic, Mutu e Salaceta. E allora finiamo con la terza maglia, che sarebbe in realtà la seconda, quindi la maglia away di quella stagione, di cui ho anche un ricordo personale. Eccola qui, la maglia rossa, la maglia rossa di quella stagione. Una maglia molto particolare, una maglia inedita, assurda se vogliamo, perché è praticamente una bandiera dell'Italia, è praticamente un tricolore dove prevale il rosso e il resto della bandiera è ridotto praticamente a questa doppia banda. Con all'interno le due stelle e dall'altra parte c'è il logo Nike, in questo caso termo applicato, non è una cucitura. Lo stemma della Juventus è sempre lo stesso che vi ho già mostrato e poi c'è la top Tamoil, unico sponsor delle maglie di quella stagione. Anche questa ce l'ho senza personalizzazione, ma questa qui in realtà l'ho acquistata praticamente nuova, anche se appunto nel 2020 infatti ho ancora la bustina con all'interno lo scudetto da applicare che andava messo sostanzialmente qui. Ma la particolarità, se vogliamo, di questa maglia, a parte il fatto che già, che comunque reca anche qui il triangolo, se riuscite a vederlo, che c'era anche nelle prime due maglie ed è quindi sostanzialmente un dettaglio strutturale delle maglie di quella stagione, il fatto che la toppa Tamoil, se trovate o ce l'avete magari una maglia un po' più datata, come questa, vi risulterà un po' appiccicaticcio, perché le maglie di quella stagione, di quegli anni, anzi, le toppe Tamoil si rovinavano in questo modo, diventavano appiccicose dopo un po', invece questa qui è ancora integra perché è veramente nuova. Nessuna personalizzazione, appunto perché è completamente nuova, però mi piace veramente tanto. E qual è il ricordo particolare? Maglia che tra l'altro fu indossata in sole 6 partite, furono 4 vittorie e 2 pareggi, proprio a Bari. A Bari per la vittoria del 29esimo scudetto il 14 maggio 2006 contro la Regina, era una partita in trasferta, si giocò in campo neutro e tutto lo stadio San Nicola di Bari era per la Juventus, praticamente, io c'ero e questa maglia fu indossata per la premiazione, quindi giocammo con la prima maglia bianconera, ma per la premiazione andammo ad indossare questa. E però fu praticamente l'ultima maglia di quella stagione, che poi ci vide salutare purtroppo la Serie A per andare a giocare in Serie B dopo Calciopoli. E questa maglia quindi resta nella storia, anche se è stata indossata poche volte. È tutto per le maglie della stagione 2005-2006, raccontatemi nei commenti se avete dei ricordi particolari di queste maglie, se volete contestare la mia elezione del gol più bello di quella stagione, ne preferirate magari degli altri, bugiati, impossibile, e quale delle tre maglie vi piace di più. E quindi mettete like a questo video se vi è piaciuto, condividetelo con chi potrà essere interessato a questa rubrica, e quindi seguite la playlist Avsim Shirts e iscrivetevi al canale attivando le notifiche. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!